Le cose arrivano quando non devono arrivare e così mi sono beccata questa influenza. Sono al nono giorno e l'ho curata anche male, nel senso che non l'ho curata i primi giorni, anzi ho anche abusato delle mie forze, con il risultato che ho peggiorato la situazione. Purtroppo per il lavoro che faccio non potevo mandare un certificato medico, questa è una delle cose brutte, mando un certificato medico al cliente e dico rimando e lui dice, vabbè, rimandiamo, ma sono qui che mi guardo davanti allo specchio e stamattina ho dato una parvenza di colore, perché sto aspettando degli amici qua a casa e non voglio farmi vedere totalmente in disastro. Comunque, niente, a parte questo va tutto bene, mi spiace non aver partecipato alla fiera, fiera, allo show di Salone e questa è l'unica cosa. C'è stato anche un contrattempo per la piccola Allegra, sì, una bella scoperta un giorno, perché in tutto questo, mentre appunto non mi curavo, ho fatto anche, ho continuato una selezione che avevo in corso e ho portato Allegra con me, proprio perché la vedevo un pochino debole e quando siamo rientrata a casa, scusatemi, mi ha fatto la pupù piena di sangue. È la prima volta che mi succede una cosa del genere, che vedo una cosa del genere, ovviamente allarmatissima. Io ero influenzata, chiamò la clinica e mi dicono di non allarmarmi, che poteva essere una cosa per i vermi, ma ho appena finito il trattamento, oppure qualche altra cosa. E allora mi hanno mandato, loro ha detto, a ritirare le feci e niente, il giorno dopo mi hanno dato il risponso. Dice però una controllatina, bisogna farla, non erano vermi, non c'erano parassiti, ma bisogna capire un po' l'origine di questa cosa. Sinceramente, fra tutti i casini che ha avuto Allegra nella sua lunga esistenza, questa mi era mancata, vediamo un po'. Adesso è tutto ritornato normale, sarei dovuta andare ieri in clinica, però non me la sentivo, andrò, proverò ad andare durante questa settimana. Visto che non era, a parer del medico, non era una cosa urgente. Niente, ritorno presto per raccontarvi altre cose. Un bacio e ci vediamo presto, sì, subito, presto. Ciao.